Ecco, vedete, praticamente ci stanno facendo capire che sono ovviamente arrabbiati perché i delfini praticamente sembra che abbiano mangiato tutto ma come mai? Cioè, praticamente, quando sono arrivati questi delfini? No, vabbè, vengono, stanno anche qui in questa zona qua quindi bene o male il delfino è anche un animale abbastanza furbo prende il pesce proprio di quella di alta qualità attraverso le reti quindi purtroppo per i pescatori diventa complicato perché il delfino, essendo predatore, mangia direttamente il pesce più buono e lascia lo scarto ai pescatori Ma te lo immagini? Eppure il delfino è simpatico È l'animale più bello del mondo Ma non per i pescatori? Non per i pescatori No, mi dispiace, in bocca al lupo per la prossima volta speriamo che sia più fortunata Eh no, no, hanno ragione, scusi, perché se vanno a pescare e poi dopo... Ma io non capisco, ma sembra bugono la rete, cioè Praticamente mettono il muso nelle maglie delle reti e riescono a tirare fuori il pesce, tutto qua Ma un delfino era simpatico Grazie Grazie